E' stata rinviata il prossimo 24 novembre la prima udienza preliminare sulla vicenda della morte del piccolo Maxim. Il bimbo di origine russa ucciso dal padre adottivo Massimo Maravalle, tecnico informatico pescarese di 48 anni affetto da disturbo psicotico atipico, la notte tra il 17 e il 18 luglio dell'anno scorso, mentre il bambino dormiva nell'abitazione di via Petrarca. Nella prossima udienza il GUP del Tribunale di Pescara Nicola Colantonio affiderà l'incarico al perito Caterina Del Zingaro per la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali di alcuni imputati. E' stato il PM Andrea Papalia a chiedere oggi di trascrivere le intercettazioni, le parti non si sono opposte. Maravalle è accusato di omicidio, ma la perizia dello psichiatra Renato Ariatti ha stabilito che all'epoca dei fatti il tecnico informatico versava per infermità in condizioni di totale esclusione dalla capacità di intendere e volere. Maravalle dunque, secondo la legge, non è punibile, ma aspetta comunque al GUP formalizzare il proscioglimento. Maravalle è inoltre accusato assieme alla moglie Patrizia Silvestri e a due medici di falso in concorso, nello specifico relativamente alla dichiarazione di disponibilità presentata al Tribunale per i minorenni dell'Aquila all'adozione internazionale con contestuale richiesta di relativa idoneità. I coniugi avrebbero omesso di riferire e fornire notizie sui disturbi e sulla patologia psichiatrica di Maravalle. I due medici, secondo l'accusa, avrebbero invece attestato che il padre di Maxim era esente da difetti fisici e psichici, omettendo di rilevare l'esistenza di patologie. Massimo Maravalle attualmente è sottoposto alla misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata.